Operazione della Polizia volta a contrastare i reati connessi alla prostituzione che si è stesa nel territorio vicentino, in particolare nei comuni di Vicenza e Bassano del Grappa, e che ha portato al bilancio di tre centri massaggi, tutti gestiti da cittadini cinesi, chiusi e sanzionati, e di una denuncia per sfruttamento della prostituzione per una titolare. Dopo aver monitorato i siti internet contenenti annunci dedicati a pubblicizzare forme occulte di prostituzione, gli agenti della Questura hanno effettuato i controlli che hanno riguardato anche i clienti. Sono state sospese le attività in due centri massaggi di Vicenza, chiusi in via cautelativa per le gravi violazioni della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori accertate. Contestate 60.000 euro circa di sanzioni per ciascuno di essi, mentre il centro massaggi a Bassano è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. La titolare denunciata per sfruttamento della prostituzione. Le indagini proseguono per verificare se siano state commesse ulteriori violazioni di carattere penale.